Ottimisti con cui chiudiamo l'ultima puntata del 2020 di Omnibus che tornerà il 2 in onda naturalmente ma intanto la giornata importante per la politica sicuramente ma anche per tutte le notizie che arrivano sui vaccini sarà seguita ovviamente dall'edizione telegiornale dei nostri programmi e quindi non resta che ringraziare Carlo De Benedetti e Paolo Giordano naturalmente visto l'ultima puntata e questo è giusto così ringraziare ovviamente tutti coloro che ci aiutano a andare in onda tecnici, lo studio, la regia, la produzione di Omnibus e anche da tutti noi buon anno, ci vediamo subito dopo, restate ovviamente sulla 7, buon anno